Circhi un liceo ricco di esperienze internazionali? Ti interessa viaggiare alla scoperta del mondo contemporaneo? Puoi accedere alle migliori università e distinguerti nelle professioni internazionali emergenti? Al Liceo IES di Reggio Emilia è nato il nuovo indirizzo Relazioni Internazionali, un percorso unico riservato a 20 studenti selezionati, con tre grandi novità. 1. Corsi anche in lingua inglese, le materie svolte in lingua, gli insegnanti madrelingua, i progetti e i laboratori in lingua rendono l'inglese la tua seconda lingua madre e ti permettono di conseguire anche il diploma inglese. 2. Piano di studi internazionale, lo studio della storia, della cultura e della geografia umana, politica ed economica dei diversi paesi ti prepara a comprendere il mondo contemporaneo e ad affrontarne le sfide da protagonista. 3. Esperienze internazionali. Ogni anno i soggiorni di studio all'estero, gli stage e le summer school, i progetti Erasmus+, le simulazioni del Parlamento europeo e delle Nazioni Unite ti aprono al mondo e ti preparano a muoverti senza pregiudizi in una dimensione internazionale. In tutte le materie le lezioni sono interattive e la teoria viene messa in pratica nei laboratori e nei lavori di gruppo. È il metodo didattico delle migliori scuole al mondo, già applicato con successo negli altri indirizzi YES. Al liceo YES i risultati formativi contano più dei voti. Imparerai a studiare in modo efficace, ad avere fiducia nelle tue capacità e a risolvere i problemi, capacità fondamentali per un futuro universitario e lavorativo di successo. Vuoi saperne di più? Iscriviti all'incontro di presentazione del nuovo indirizzo relazioni internazionali, solo al liceo YES.